La vita è comunicazione. La comunicazione è vita. Lenio Life presenta tecnologia di bioregolazione Lenio, una tecnologia potente che supporta la comunicazione a tutti i livelli biologici dell'organismo vivente. La biocibernetica clinica offre una nuova modalità come approccio biocibernetico in biologia e medicina. La comunicazione gioca un ruolo fondamentale in economia. Le aziende sono costantemente in contatto con i partner commerciali e seguono i cambiamenti del mercato. I contatti sociali sono modellati dalle nuove tecnologie e la connessione in tempo reale con un numero illimitato di persone è ora possibile. La quantità di dati aumenta ogni giorno. In biologia, sappiamo che ogni unità biologica, cellule, tessuti, organi, ecc., ha bisogno di comunicare ad una velocità molto elevata, per mantenere i processi di adattamento. La qualità di questi processi di comunicazione determina la qualità dell'adattamento e, a sua volta, la qualità della vita. La biocibernetica è lo studio del flusso e dell'elaborazione delle informazioni nei sistemi biologici. Comprendendo i diversi processi di comunicazione di un organismo vivente, possiamo anche capire le capacità di autoregolazione dell'organismo stesso. La biocibernetica studia la tempistica e la sincronizzazione di tutte le attività biologiche, in particolare i mezzi di adattamento, e la biocibernetica clinica supporta in modo specifico il flusso di informazioni necessario per i processi di adattamento. La vita è caratterizzata da continui cambiamenti, che richiedono un adattamento stabile e rapido. Il flusso e l'elaborazione delle informazioni in un corpo umano sono estremamente veloci. Ogni cellula svolge almeno 100.000 attività al secondo e il numero totale di attività in un organismo umano supera 100.000 volte 100 miliardi ogni secondo. A causa dei processi di sincronizzazione molto precisi ed estremamente rapidi nel corpo, la trasduzione del segnale richiede più di quanto la capacità di segnalazione neurale possa offrire. Maggiore velocità e maggiore precisione, oltre a supportare i processi di adattamento del DNA e della membrana, laddove le connessioni neurali non sono disponibili. La sincronizzazione costante è necessaria per la precisa cooperazione tra le diverse unità biologiche dell'organismo. Per essere efficienti dal punto di vista energetico, questi processi di sincronizzazione devono raggiungere il livello di coerenza. I sistemi biologici che hanno un alto livello di sincronizzazione risultano in un alto livello di coerenza biologica. Pensate a un puntatore laser, che utilizza una quantità di energia estremamente ridotta grazie al livello di sincronizzazione delle onde luminose emesse. La minuscola batteria funziona per diversi anni. La segnalazione coerente è molto efficiente dal punto di vista energetico. In biologia l'elaborazione coerente del segnale richiede solo una quantità gestibile di energia. Ciò significa che la salute e le prestazioni umane dipendono dal livello di coerenza biologica. Quando il livello di sincronizzazione in un sottosistema fluttua, anche le prestazioni del sottosistema fluttuano. Le interruzioni della comunicazione e la trasmissione di segnali di scarsa qualità generano sempre piccole reazioni locali, che a loro volta possono influenzare la coerenza biologica e le capacità di adattamento di unità biologiche più grandi. Quando ciò accade, possono verificarsi alterazioni funzionali, perdita di prestazioni e persino gravi malattie. Possono emergere anche ipersensibilità, allergie, degenerazioni croniche dei tessuti e reazioni autoimmuni. La capacità di adattamento di un organismo dipende dal modello di attività dei suoi sottosistemi. Attività biologiche diverse hanno schemi di attività diversi, dal trasporto di ioni molto rapido a cicli lunghi come quelli ormonali femminili. Per questi motivi, la variabilità della frequenza cardiaca è stata utilizzata a fini diagnostici per oltre quattro decenni. Finché i singoli sottosistemi mantengono i loro modelli di attività fisiologica, all'interno dei loro cicli funzionali molto diversi. La coerenza biologica è elevata e la capacità di adattamento dell'organismo è forte. Sia i fattori costituzionali ereditati e acquisiti, sia i fattori ambientali e comportamentali, possono modellare questi cicli di attività. La biocomunicazione elettromagnetica è il mezzo attraverso il quale l'autoregolazione riceve informazioni sufficienti. La biocomunicazione elettromagnetica è stata prevista alla fine del XIX-XVII secolo e pienamente identificata nel XX-XVII secolo. Questo processo di comunicazione estremamente preciso e ad alta velocità è il modo in cui le cellule e le strutture cellulari dirigono l'attività di segnalazione elettromagnetica che consente di svolgere molti milioni di processi adattativi al secondo. Negli anni Sessanta, il Nobel laureato, Albert Saint-Giurgé, afferma che i processi di regolazione cellulare sono controllati da processi elettromagnetici di bassissima intensità. Le caratteristiche di accumulo ed emissione di fotoni coerenti del DNA sono state identificate per la prima volta in Germania a metà degli anni Settanta e contestualizzate nel 1984. Nel 1997 Ippocampus pubblica le osservazioni sulle funzioni di controllo dei segnali biologici a bassa energia. Il gruppo di ricerca di Robert Becker ha svolto un ruolo chiave nel comprendere come la biocomunicazione elettromagnetica controlli le attività di riparazione cellulare. La biocibernetica clinica è iniziata nel 1979, quando la FDA ha approvato il dispositivo di Becker che supportava il trasferimento di elettroni per facilitare la riparazione cellulare. La tecnologia di bioregolazione di legno, o BRT, fornisce un supporto preciso e mirato per di feedback preselezionati di un organismo, consentendo una comunicazione biologica sincronizzata, un migliore adattamento e una rapida riparazione cellulare. La prima applicazione clinica è stata l'agevolazione della rigenerazione di fratture osse e di altri tipi di lesioni gravi nell'esercito americano alla fine degli anni 70. La biocibernetica clinica apre nuove possibilità nella qualità della cura, in relazione alla guarigione delle ossa e alla gestione del dolore. Alson, la qualità della vita dei pazienti migliora e la durata e i costi dell'assistenza diminuiscono significativamente. La ricerca e lo sviluppo costanti hanno portato a modalità di applicazione avanzate. La biocomunicazione elettromagnetica si è trasformata da tecnologia militare a tecnologia di facile utilizzo e accessibile alle masse. Oggi, grazie alla NEO BRT, la biocibernetica clinica è disponibile in molti paesi per applicazioni professionali e domestiche. Sostenendo i processi di comunicazione cellulare, la BRT contribuisce a ottimizzare la riparazione dei tessuti, con conseguente recupero più rapido, riduzione delle cicatrici e complicazioni postchirurgiche trascurabili. Nelle immagini vediamo il recupero di una vittima di un incidente in moto. Dopo tre settimane non aveva più dolori e si è ripreso completamente in soli 65 giorni. Con la BRT, una migliore comunicazione cellulare e tessutale si traduce in una più rapida normalizzazione dei riflessi nervosi locali e segmentali, in un minor dolore, in un minor gonfiore, in un miglioramento delle funzioni immunitarie e in una riduzione delle complicanze post-operatorie. In molti paesi la BRT è già integrata nel processo di riabilitazione, tra cui i principali reparti di riabilitazione degli ospedali di Budapest, in Ungheria, Ankara e Cogna, in Turchia, oltre che negli Stati Uniti e in Canada. Diversi paesi dell'America Latina, tra cui Cile, Colombia, Argentina, Brasile, Uruguay, San Salvador, Costa Rica e Messico, utilizzano la BRT per la riabilitazione nelle grandi cliniche private. A Budapest, l'Istituto Nazionale Ungherese di Riabilitazione Medica ha installato i dispositivi Lenio BRT su ogni lettino terapeutico del reparto di fisioterapia. Negli ultimi 15 anni, dopo oltre 250.000 sedute di terapia, l'Istituto ha acquisito un'enorme esperienza e raccolto informazioni e dati preziosi. La maggior parte dei casi è dovuta alle seguenti iziologie. Ictus, danno cerebrale legato all'ipossia, incidenti, amputazioni, grandi interventi chirurgici, interventi di protesi, degenerazioni della colonna vertebrale e del tessuto osseo. La BRT è facile da integrare nello schema di terapia esistente. Favorisce la comunicazione tessutale e, se utilizzata con altre modalità come terapia complementare, la BRT aumenta l'efficacia delle altre modalità. La riabilitazione dell'Ictus raggiunge un nuovo livello di successo con le sessioni di BRT integrativa. Dopo che i pazienti escono dal coma e vengono trasferiti all'Istituto Nazionale di Riabilitazione Medica, le sessioni di BRT integrativa possono iniziare su base giornaliera. A partire dalla seconda settimana, in genere vengono somministrate tre sessioni alla settimana. In questo caso, una donna di 56 anni che aveva sviluppato una paresi spastica unilaterale e un grave disturbo del linguaggio, è stata sottoposta a un programma di BRT integrativa che ha fatto la differenza nel suo recupero. Dopo cinque sedute la paziente ha iniziato a camminare, e dopo dieci sedute in meno di tre settimane di BRT integrativa. Il suo equilibrio è tornato e ha iniziato a camminare in modo indipendente. Possiamo notare che la riabilitazione dell'Ictus è molto più rapida quando la BRT è integrata nel piano fisioterapico. I vantaggi più significativi includono meno giorni di malattia, il che si traduce in minori spese durante il periodo di riabilitazione. Le difficoltà legate all'handicap limitano molto meno le attività quotidiane durante il periodo di riabilitazione, i familiari sono molto meno stressati. Nella maggior parte dei casi, anche i pazienti completamente disabili possono riacquistare l'autosufficienza nel giro di pochi giorni, in modo che la tipica depressione post-ictus compaia e venga ristabilito l'equilibrio mentale ed emotivo. In generale, quando la BRT viene integrata nella fisioterapia convenzionale, accelera il recupero dopo le lesioni cerebrali. I miglioramenti si notano facilmente di seduta in seduta, il che incoraggia tutti, il paziente, il terapeuta e i familiari. La paresi cerebrale spastica è una patologia progressiva del midollo spinale che causa una grave contrazione dei muscoli gastrocnemio, con conseguente sovraestensione di una o entrambe le gambe. In questo caso, un bambino non riusciva a muoversi da solo e, a parte qualche movimento delle mani, non si è mosso affatto fino all'età di 11 mesi. La prognosi medica era devastante, non aveva alcuna possibilità di camminare o di sedersi da solo. Dopo solo due settimane di sessioni di BRT, aveva meno contrazioni muscolari e dopo 15 settimane di sessioni quotidiane di BRT ha iniziato a gattonare. Poco dopo ha iniziato a camminare. Nei casi più difficili, i dispositivi Lenio BRT per uso domestico possono mantenere il numero di sessioni giornaliere richiesto. Esistono diversi dispositivi Lenio per uso domestico. Sono facili da usare e anche i bambini piccoli possono imparare a usarli. I bambini apprezzano particolarmente le sedute per gli effetti rilassanti immediati. Dopo le sessioni di Lenio BRT, lo sviluppo del bambino si è completamente normalizzato e 15 anni dopo è diventato un corridore di successo su lunghe distanze. Dopo l'età di un anno e mezzo non mostrava più alcun segno di ipossia congenita. In India, una bambina di 5 anni ha avuto un'emorragia cerebrale causata da un'infezione virale. Era in costante disagio a causa delle contrazioni muscolari e della conseguente alimentazione insufficiente. Sia la vista che il linguaggio erano compromessi al 100% e la comunicazione con l'ambiente circostante era minima. Dopo due mesi di gravi sintomi dovuti all'ictus, i suoi genitori hanno trovato un operatore BRT a Pune, in India, che ha combinato la neuroterapia e la BRT. La combinazione di neuroterapia e terapia all'NEO BRT ha portato a rapidi cambiamenti. Trattino miglioramento significativo del suo comportamento. Ha smesso di piangere dopo tre sedute e la comunicazione verbale è stata ristabilita dopo 5 giorni. Trattino il decimo giorno e il suo controllo muscolare è migliorato a tal punto che è riuscita a sedersi di nuovo, da sola. Trattino durante la terza settimana di trattamento ha reimparato a camminare e dopo due mesi correva e giocava come prima. Trattino i suoi occhi sono lentamente migliorati e dopo due mesi l'acuità visiva era tornata al 50%. Trattino negli ultimi due anni, la sua vista ha continuato a migliorare e conduce la normale vita di un bambino. La BRT offre molte possibilità di applicazione, che spesso si traducono in un sonno ottimizzato, una migliore rigenerazione giornaliera, una maggiore tolleranza al carico di lavoro e un'ottimizzazione delle prestazioni. Secondo il medico capo della squadra olimpica, gli atleti di alto livello possono trarre grandi benefici dall'Enio BRT su base quotidiana. Molti atleti affermati, sia professionisti che dilettanti, utilizzano la BRT per migliorare naturalmente le prestazioni, la resistenza e accelerare il recupero. Anche le lesioni persistenti e di lunga durata possono essere trattate con successo con la BRT. Sia le lesioni piccole che quelle più gravi guariscono più rapidamente e completamente con l'uso della BRT. Inoltre, la sensazione di dolore post-infortunio scompare molto più rapidamente con la BRT. All'età di 20 anni, Thomas Varga, al suo primo anno da professionista in Italia, ha sofferto per 15 mesi di una grave infiammazione di tre vertebre, che lo ha reso incapace di praticare qualsiasi sport. Ha avuto la sua prima esperienza con la BRT a Basilea, in Svizzera, e poi ha ricevuto una terapia BRT continuativa a Budapest, in Ungheria. Dopo soli due mesi, Thomas ha potuto riprendere gli allenamenti di pallanuoto, con l'obiettivo di tornare a essere il motore della sua squadra. Dopo un recupero completo, Thomas ha ripreso la sua attività a livello olimpico e ha continuato a utilizzare i dispositivi Lanyo BRT per tutta la sua lunga carriera. Ha vinto due medaglie d'oro olimpiche e due titoli di campione del mondo prima di ritirarsi dalla pallanuoto professionistica all'età di 40 anni. Anche le applicazioni psicologiche della BRT sono molto importanti. Abbiamo iniziato a utilizzare la BRT in un reparto di degenza psichiatrica dell'ospedale dell'Accademia delle Scienze di Kiev, in Ucraina, nel 1995. Da allora, l'osservazione e l'esperienza clinica hanno dimostrato che la distonia vegetativa e le disfunzioni correlate rispondono meglio alla BRT. Molto più di altri trattamenti e approcci. I programmi di gestione dello stress possono facilmente integrare la Lanyo BRT nei protocolli interni ed esterni. Quando trattiamo condizioni psicologiche gravi, forniamo una formazione approfondita al personale clinico. Inoltre, i nostri medici implementano la BRT nel loro lavoro quando trattano disturbi dello sviluppo cerebrale. PTSD o decadimento neurologico funzionale legato all'età. I problemi di apprendimento, i deficit di attenzione e i decadimenti mentali ed emotivi legati all'invecchiamento sono al centro di molte cliniche di neurofeedback. Anche nei centri di neurofeedback di grande successo, l'introduzione di Lanyo BRT fornisce un aiuto in più e offre un secondo vento. Oggi, psicologi, psicoterapeuti, operatori di neurofeedback, specialisti di biofeedback e professionisti delle dipendenze riconoscono i benefici di Lanyo BRT. Ippocampus ha condotto uno studio BRT di 9 settimane con 13 bambini affetti da disturbo dello spettro autistico, in una clinica pediatrica di Jacksonville, in Florida. Per valutare i cambiamenti è stato utilizzato il test standardizzato ATEC. L'ATEC è stato sviluppato dall'Autism Research Institute ed è diventato lo standard per il monitoraggio dei cambiamenti legati alla terapia nell'autismo. Le capacità di parlare e di comunicare verbalmente sono migliorate in modo significativo. In sole nove settimane, con tre sessioni di BRT a settimana, i punteggi sono migliorati del 51% rispetto ai punteggi di partenza. Anche la socievolezza è migliorata significativamente dopo nove settimane di terapia BRT. In sole 27 sessioni, i punteggi sono migliorati in media del 33%. La consapevolezza sensoriale e cognitiva è migliorata dopo nove settimane di terapia BRT. I punteggi sono scesi da 127 a 84, con un miglioramento medio del 34%. I miglioramenti nelle prime tre aree di valutazione, comunicazione verbale, socievolezza, consapevolezza sensoriale e cognitiva, che hanno a che fare con il sistema nervoso e l'espressione di sé, hanno portato a un miglioramento significativo anche delle condizioni generali di salute. Dopo nove settimane di terapia BRT, i punteggi in quest'area sono migliorati del 30%. I dispositivi BRT generano un campo elettromagnetico pulsato CEMP a bassissima intensità per contribuire a migliorare la comunicazione tra le cellule. Attraverso programmi e protocolli BRT personalizzati che si rivolgono a specifici canali di comunicazione biologica. I segnali BRT creano un campo elettromagnetico di supporto, come un Wi-Fi locale, per consentire la creazione di reti biologiche e attività. La BRT aiuta le cellule a comunicare più rapidamente, a lavorare insieme in modo più coerente e a migliorare le funzioni previste. La selezione automatica dei programmi specifici per tessuti e organi assicura che tutte le passaporti di comunicazione necessarie siano incluse nella sessione BRT. Tutti possono trarre vantaggio dall'utilizzo dei dispositivi BRT. Il marchio Lenio offre apparecchiature specifiche per ogni campo di applicazione. I programmi e i protocolli sono creati con competenza e l'utente può familiarizzare facilmente con il software. Sono disponibili tecnologie BRT di tipo Biofeedback e PEMF. I dispositivi Lenio BRT non sono invasivi e sicuri. Sono progettati per affrontare un'ampia varietà di condizioni di salute fisiche ed emotive e di problemi. L'ultima generazione di dispositivi BRT Lenio avvicina la tecnologia BRT a tutti i gruppi di utenti. Le nuove caratteristiche tecnologiche garantiscono prestazioni migliori e, allo stesso tempo, le dimensioni ridotte e la lunga durata della batteria ne migliorano la portabilità. I prezzi sono accessibili. Il nuovo software è facile da usare e il dispositivo ha una lunga garanzia. I campi elettromagnetici malsani presenti nell'ambiente che ci circonda possono avere un impatto significativo sul normale funzionamento della biocomunicazione elettromagnetica. Per questo motivo, è necessario evitare l'elettroinquinamento e trascorrere più tempo possibile nella natura. Il padre della biocibernetica clinica, il dottore Robert Becker ci mette in guardia. Il più grande elemento inquinante dell'ambiente terrestre è la proliferazione dei campi elettromagnetici. Lo considero una minaccia su scala globale molto più grande del riscaldamento o dell'aumento di elementi chimici nell'ambiente. Dobbiamo proteggerci dagli effetti negativi dei campi elettromagnetici prodotti dall'uomo. L'armonizzatore spaziale lenio crea un ambiente che consente di ripristinare la dinamica naturale del flusso del chi. La tecnologia BRT è già presente in 52 paesi in 6 continenti. Ippocampus offre un'ampia gamma di programmi educativi per tutti i professionisti della salute. I corsi sono adattati alle esigenze dei diversi gruppi di utenti. Per ogni campo di applicazione vengono offerti corsi di formazione orientati alla pratica. I workshop online lenio forniscono le informazioni necessarie per iniziare a utilizzare questa tecnologia potente ed efficace, in base a specifiche aree di interesse. Tecnologia BRT e campi di applicazione speciali per uso domestico. Comprendere le diverse componenti fisiologiche delle funzioni corporee. Comprendere i fattori e il trattamento degli squilibri biologici di comunicazione alla base delle malattie. Tutti i dispositivi lenio BRT per uso professionale e domestico sono certificati ISO e registrati presso la FDA. Visitate il sito Lemiolife.com per saperne di più sulla BRT e su come può trasformare la vostra salute, la vostra attività e la vostra vita. Grazie. 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 Grazie.